Il bilancio illustrato alla città è un documento che il Comune di Piacenza ha prodotto con lo scopo di spiegare in modo semplice e diretto la sintesi del bilancio di previsione 2024 che rappresenta il documento di riferimento per la gestione dell'ente per l'anno in corso. Il bilancio totale del Comune ammonta a 277 milioni di entrate, 30 di questi provengono da finanziamenti regionali o statali mentre il resto è composto da risorse interne, 50 i milioni di spese in lavori pubblici di natura straordinaria nel triennio 2024-2027 mentre 45 sono i progetti che saranno finanziati con quasi 63 milioni di fondi PNRR. Tra i dati più salienti e positivi quello che riguarda l'indebitamento però capita. Nel Comune di Piacenza ammonta infatti a poco più di 66 euro il dato più basso in regione quando la media dell'indebitamento per ogni singolo cittadino a livello nazionale è pari a circa 1700 euro. Non mancano però alcune spine nel fianco. Rispetto ai servizi anche a domande individuali c'è un grosso problema del recupero da parte del Comune della morosità rispetto al mancato pagamento delle rette o delle quote che devono essere pagate. Ecco è necessario che i cittadini ne siano consapevoli. Da parte dell'amministrazione si sta facendo uno sforzo per essere anche più puntuali nell'arrivare a sollecitare chi non ha adempiuto al proprio impegno perché diventa anche più facile e anche educativo però ci vuole anche la responsabilità dei cittadini che lo facciano. Tutti i dati contenuti nel bilancio sono consultabili sul sito del Comune di Piacenza.